Bentornati, bentornati, bentornati Vedete che ero ancora su gli eventi sogno Stavo controllando un po' gli eventi sogno quali erano Erano solo 10 E oggi Vorrei continuare con il lancio del disco Il lancio del disco è uno piuttosto Piuttosto buono Non è carino Ci ho messo un po' di tempo a imparare come si fa Userò Vector che non mi piace tanto come personaggio Quindi lo uso qua Adesso non criticare i temi perchè non mi piace Vector Se poi qualcuno piace Non c'è problema Non mi scandalizzo Non è che odio Vector Non è tutto Ma ok Aspetta 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 Ah ok Ottimo Ah Ah dai Che è che si può stare 70 metri 236 E' già un record E sono anche già primo Si Ricordate il migliore Non può fare più del record per stabilito lì Oh Uh è rosso è andato più alto di prima Eh si vede Qualche metro in più Due metri Tre metri Tre metri Del 73.059 Un nuovo record a questo è perfetto oh eh carino dai 80 minuti questi sono 78 dai 78 e 46 quasi ottimo il mio record è 83 o qualcosa nella partita quasi completa è uno dei pochi giochi che è difficilissimo fare 100% ci vuole proprio tanto ti scontro più lontano se lo lanci quando la linea si vabbè allora dovete praticamente scuotere il comando verso destra all'inizio poi verso sinistra con i cerchi e alla fine inclinare il telecomando in una angolazione più o meno di 45 gradi e poi lanciare con B con B ok con B bene no ho fatto abbandono o ho fatto selezione vinto? non ho visto ho fatto selezione vinto visto ci manca l'ultima oggi visto che l'ho registrato tutto nello stesso giorno registrerò l'ultima e poi credo che chiuderò qua la serie di video è inutile che faccio soltanto quello perché se no vi verrebbe troppo corto il video vabbè io vi saluto ciao a tutti ciao alla prossima con lancio